Le scuole paritarie della diocesi per il momento reggono la crisi, pensano di riaprire a settembre e non hanno intenzione di aumentare le rette. In sintesi il desiderio di continuare è forte ma c'è una grande incognita. Quali disposizioni varerà il governo e i fondi aumenteranno? Regole chiare ancora non ci sono. Certo è che il rapporto all'uni educatori e la necessità di nuovi spazi potrebbero affossare le migliori intenzioni. Per ora vige un clima di stand by. Un esempio concreto. A Casarza Ligure la materna parrocchiale ha avviato il centro estivo con nove dipendenti totali per una ventina appena di bambini. La scuola resiste grazie all'aiuto del comune dice don Stefano Traini ma è chiaro che il servizio è in perdita. Al nido San Girolamo di Rapallo il centro estivo della materna vede tre gruppi da cinque bambini con l'impegno di tre educatori al mattino e di altri tre al pomeriggio. Il personale dunque tutto al lavoro ma il numero dei bambini è di gran lunga inferiore. Si va avanti anche grazie al voucher regionale che però resta un'incognita. Cosa succede se la famiglia non sarà in graduatoria? Se lo chiedono all'asilo Don Stagnaro di San Bartolomeo della Ginestra dove il centro estivo funziona ad alcuni giorni e le iscrizioni sono aperte con rette calmierate. Ma se lo chiedono anche alla scuola dell'infanzia Rotondi di Zoagli dove il centro estivo non è partito e dove insegnanti e maestre non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione di marzo. Non è partito neppure al Maria Luigia di Chiavari anche perché molte famiglie non se la sono sentita di mandare i figli spaventate ancora dal rischio contagio. Grazie alla buona gestione di questi anni spiega la dirigente Simonetta Presa reggiamo alla situazione chiaro è che se si dovesse proseguire così per un paio di anni anche noi finiremmo in sofferenza. All'istituto Gianelli di Rapallo niente centro estivo ma c'è l'intenzione di ripartire a settembre con le solite rette. Ad ora alcuni lavori e altre attività vengono gestite con il volontariato. Si mantiene la rotta dunque mentre a livello nazionale altre 19 scuole paritarie hanno annunciato la chiusura. All'istituto Gianelli di Rapallo All'istituto Gianelli di Rapallo